Ciao ragazzi, sono Michele Valladino, proprietario e coach di CrossFit Salerno. Oggi è venerdì, quindi ultimo world della settimana. Le skill di oggi andiamo a lavorare su front squat pesanti e quindi un warm up anche divertente da fare. Andiamo a fare a ritmo di musica, quindi della canzone di Moby, Bring Sally Up, andiamo a fare il Frank Stein Squat. Quindi il pipe poggiato sulle spalle tenendolo in posizione orizzontale e andiamo in modalità Bring Sally Up a fare gli squat. Quindi andiamo a fare un ottimo riscaldamento specifico per il front squat. Dopo finita la canzone andiamo a fare un riscaldamento più specifico, quindi col bilanciere. Andiamo a fare delle triple incrementando il peso fino ad arrivare a delle triple pesanti per poi cominciare il vero e proprio lavoro sul front squat. Cominciamo con una serie da tre ripetizioni per poi andare a fare due serie da due ripetizioni e chiudiamo con quattro singole di front squat. Finito il front squat andiamo a fare un riscaldamento per il world. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a fare due round non for time, perché è un riscaldamento specifico per il world, di cinque dumbbell front squat, dieci pull up e venti double under. Nel secondo round andiamo ad incrementare leggermente il peso sui dumbbell, così iniziamo a creare un po' di attivazione appunto per il peso del world. World di oggi, tre round for time di dieci dumbbell front squat, venti chest to bar pull up e cinquanta double under. I carichi del dumbbell per gli avanzati e gli intermedi sono i due manubri da 34 kg maschile e 24 kg femminile, per gli intermedi due dumbbell da 25 kg maschile e 17 kg e mezzo femminile, mentre per i beginner cosa andiamo a fare? Sempre tre round di dieci dumbbell front squat, però il peso è due manubri da 15 kg maschile e 10 kg femminile, invece dei chest to bar andiamo a fare 20 pull up e invece dei 50 double under andiamo a fare 100 single under. Ragazzi con questo world chiudiamo la settimana, vi auguro buon divertimento, mi raccomando veniteci a trovare nel box crossfit Salerno, così ci alleneremo tutti insieme. Grazie, buon fine settimana.